il purgatorio fiamme d'amore e abbiamo già fatto un'introduzione generale a questa tematica che comunque è importante perché ci riguarda da vicino cioè riguarda lo sbocco della nostra vita e come abbiamo visto dal Catechismo della Chiesa Cattolica lo sbocco della nostra vita per quanto riguarda le realtà ultime è duplice, cioè o è la beatitudine eterna o è la perdizione eterna insomma questo è l'insegnamento di Gesù Cristo venite benedetti nel regno del Padre mio via da me maledetti nel fuoco eterno e su queste parole di Cristo sull'insegnamento della Chiesa non si può assolutamente barare insomma sono insieme di Dio vanno presi sul serio e da parte sono insieme anche che riguardano proprio sperimentabili nella nostra vita voglio dire noi abbiamo veramente la possibilità di scegliere Dio di rifiutare Dio di accogliere il suo amore la sua misericordia la sua amicizia o anche di rifiutare e disprezzarla benché Dio voglia salvare tutti e benché il cielo sia la destinazione che Dio ha preparato per tutti però noi abbiamo la possibilità di non accogliere l'invito di Dio e di rifiutarlo per cui qualsiasi altra teoria che si discosta da queste verità di fede rischia veramente di ingannare e anche di come si dice di demotivare la gente dal combattimento spirituale perché sapendo che la vita qui su questa terra insomma il cielo è un dono ma è un dono che va conquistato attraverso un nuovo combattimento spirituale e abbiamo visto anche amici che il purgatorio non fa parte delle realtà ultime nel senso che terminerà con la venuta di Cristo nella gloria e quindi non è che duri eternamente il purgatorio mentre il paradiso è eterno e l'inferno è eterno il purgatorio è temporaneo e non va concepito come una realtà di mezzo fra il paradiso e l'inferno ma il purgatorio va concepito come facende parte della comunione dei santi e questa è la bellissima rappresentazione che ne fa il concilio comunico Vaticano II nella Rumen Gentium che parlando della chiesa e quindi della comunione dei santi parla della chiesa che è diciamo così nella gloria del cielo la chiesa che è nel momento della purificazione in purgatorio e della chiesa che è pellegrina qui sulla terra è un'unica chiesa cari amici è un'unica comunione dei santi quindi il purgatorio fa già parte della comunione dei santi è vero che le animi e le purgatorie possono pregare per noi e noi possiamo pregare molto proficuamente per loro perché sia breve il tempo della loro sofferenza abbiamo visto anche molto velocemente che le pene del purgatorio sono da rappresentarsi in termini spirituali quando i purgatori sono le anime e sono pene di amore radicalmente diverse dalle pene dell'inferno che sono pene di odio e proprio perché sono pene di amore cari amici oggi la catechesi la facciamo proprio su questo amore amore perché si va in paradiso si va in paradiso perché nel termine della nostra vita avremo conseguito la grazia dell'amore perfetto perché si va all'inferno si va all'inferno perché abbiamo respinto fino all'ultimo istante l'amore di Dio perché si va in purgatorio perché pur avendo accolto l'amore di Dio il nostro amore è rimasto imperfetto quindi questa è la realtà è la motivazione profonda del purgatorio un amore imperfetto che deve attraverso la sofferenza arrivare alla perfezione siamo a pagina 26 del nostro libro capitolo quarto vediamo allora questo capitolo l'amore imperfetto man mano che uno cresce nell'amore di Dio depurando dalle scorie egoistiche si prepara per il paradiso l'anima deve tendere alla meta senza indugi spronando se stessa come dice Caterina da Siena via via che la fiamma viva dell'amore la purifica come l'oro grezzo nel fuoco più l'anima si unisce a Cristo e più sperimenta il paradiso per quanto è possibile nella debolezza della carne lo spirito santificante si prende cura dell'anima operando quella purificazione che non sono alla sua portata non è sufficiente liberare il cuore dalle male erbe del peccato occorre bruciare le radici questa è un'immagine bellissima di Caterina da Siena non basta per quanto riguarda le erbe infestanti del giardino non basta tagliarle occorre sradicarle quindi cari amici se non abbiamo sradicato le radici del mare è chiaro che se non lo facciamo in questa vita lo farò nell'altra in questa fase l'anima pregusta la dolcezza dell'amore di Dio e avverte una profonda sofferenza per i suoi limiti e le sue imperfezioni cioè il momento della conversione certamente è il momento in cui confessiamo i peccati riceviamo il perdono sperimentiamo la pace di Dio ma le radici del male sono ancora profonde quindi noi ci rendiamo conto di quanto siamo indeni rispetto alla santità di Dio versiamo lacrime sui peccati commessi e guardiamo con rammarico le ferite che ci hanno lasciato ci sentiamo incapaci di amare Dio come meriterebbe e non sappiamo come colmare la distanza che ci separa da Lui in questa situazione l'anima è in grado di comprendere che cosa è il purgatorio perché sia pure in una condizione di pellegrinaggio terreno ne fa l'esperienza cioè noi dopo la conversione dopo ci siamo confessati però sentiamo ancora che il male opera in noi la nostra indignità la nostra piccolezza i nostri limiti questa è la situazione diciamo così analogicamente è la situazione che prova l'anima quando arriva davanti a Dio che si sente ancora imperfetta non ancora rivestita di quella santità per essere una sposa donna per il suo sposo ecco perché allora lei stessa desidera il purgatorio quindi mentre qui su questa terra noi poi ovviamente se siamo corrispondiamo alla grazia e ci impegniamo a perseverare nel rinnovamento di noi stessi nel cammino di santità nella pratica delle virtù se questo non lo facciamo in questa vita cari amici dovremo dovremo passare dall'amore imperfetto a quello perfetto nell'altra vita chi invece cari amici rimane a metà cammino senza entrare nella logica dell'amore amore come dice Gesù però con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutta la mente si condanna già fin da ora a dover affrontare una purificazione futura resa necessaria della santità di Dio nessuno potrebbe entrare in paradiso senza la veste candida che il Signore chiede per partecipare al banchetto nuziale la sposa come dice San Paolo nella lettera di Efesini per accedere alle nozze deve essere senza macchia né ruga ma santa e immacolata qualcuno potrebbe arrendersi di fronte a un obiettivo che volte ogni umana possibilità tuttavia confortano le parole di Gesù impossibile agli uomini impossibile a Dio cioè uno dice come faccio ad amare Gesù con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente tu metteci la tua parte che poi la grazia farà il resto quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio dice Gesù la grazia di Cristo purifica sulla terra come purifica in purgatorio l'analogia della purificazione nel tempo aiuta a comprendere quella che viene vissuta nell'eternità cioè qui è il grande segnamento di Santa Caterina da Genova cioè noi comprendiamo la purificazione del purgatorio se la paragoniamo alla tappa del camion di santità che si chiama la purificazione il camion di santità è dalla tradizione diviso in tre tappe la conversione la purificazione l'unione con Dio ebbene cari amici la tappa del purgatorio questa tappa della purificazione qui su questa terra corrisponde in qualche modo alla natura del purgatorio che appunto è è un evento una grazia il purgatorio è una grazia di purificazione quindi l'analogia della purificazione nel tempo aiuta a comprendere quella che viene vissuta nell'eternità sono soprattutto i grandi mistici che hanno messo a fuoco la natura del purgatorio come azione di Dio che dispone le anime all'abbraccio finale l'amore imperfetto forse il tiepido calcolatore col quale hanno lasciato la vita non permette che entrino nel concristo nella gloria della Santissima Trinità e quindi la purificazione sarà più o meno radicale a seconda dell'imperfezione dell'amore quando qui sulla terra vediamo delle anime che progrediscono nel cammino spirituale crescendo nel fervore abbracciando le croci che Dio dona spendendosi per i beni delle anime possiamo a ragione pensare che nel momento in cui lasciano la terra entrino in cielo perché vediamo che hanno fatto il cammino di purificazione già qui su questa terra molte volte è la stessa modalità del transito cioè la stessa morte preparata con la preghiera preparata con i sacramenti della confessione dell'eucaristia con il sacramento dell'erogio degli infermi animata dalla speranza e dalla vita eterna che prepara le anime all'abbraccio con Cristo direttamente quindi cari amici una santa morte può completare quella purificazione che non fosse ancora completata al contrario quando le anime appaiono palesemente impreparate e pur non essendosi chiuse a Dio sono rimaste impigliate nelle reti del tentatore noi stessi ci rendiamo conto della necessità di una purificazione per poter stare dinanzi alla maestà divina quindi se arriviamo impreparati davanti a Dio l'anima stessa capisce che non è preparata e pur diciamo sì e desidera dice Catrina da scena andare in purgatorio anche se luogo della sofferenza perché sa che quello è necessario per arrivare santa davanti a Dio se noi guardiamo in faccia la realtà ci rendiamo conto che solo una minoranza di persone si dedica a Dio con passione e segue Cristo senza voltarsi indietro sono pochi i cuori dove arde la fiamma dell'amore di Dio fino al dono della vita dobbiamo forse meravigliarci se la tradizione spirituale alimentata anche da numerose rivelazioni afferma che sono pochi quelli che vanno direttamente in paradiso mentre sono molti quelli che vanno in purgatorio questa è l'affermazione della regina della pace che oggi la maggioranza delle persone quando muore va in purgatorio ma questo lo vediamo anche a occhio nudo cioè sono pochi quelli che muoiono diciamo così preparati pieni di amore di Dio purificati desiderosi dell'abbraccio con Cristo ecco perché relativamente pochi vanno direttamente in paradiso secondo quello che ha detto la regina della pace un'anima in cammino verso la perfezione una volta lasciata alle spalle una vita di peccato entra necessariamente nel lungo e doloroso travaglio della purificazione cioè tutte le conversioni hanno bisogno di un tempo di purificazione questo noi non lo capiamo specialmente quando si raccontano diciamo così certe conversioni di VIP che vanno a Međugorje e vanno sui tordo cacchi dei giornali e si dimentica che non basta un pellegrinaggio per convertirsi si vuole un lungo cammino di purificazione che è molto doloroso e deve essere fatto nel silenzio e nel nascondimento questa fase della purificazione mirabilmente descritta da San Giovanni della Croce purifica l'anima dalle scorie dei peccati passati e dalle debolezze ancora presenti finché la fiamma viva dell'amore perfetto non la voce completamente San Giovanni della Croce ha scritto un capolavoro fiamma viva d'amore d'idolato dove lui dice finché questa fiamma viva d'amore non ardi nel cuore non siamo pronti per il paradiso l'amore imperfetto non è un pericolo quando l'anima è in tensione verso la meta finale la guarigione della natura umana ferita dal peccato non è l'opera di un giorno cioè il cammino di santità è lungo cari amici fatte salve alcune eccezioni si può senza affermare che la santità è un lungo cammino sapevo che Dio può anche abbreviarlo come ha fatto con i bambini di Fatima e Francesco e Giacinta che sono stati elevati a uno degli altari in poco tempo le virtù per essere davvero tali devono essere provate come loro attraverso il fuoco la santità non si improvvisa perché la natura umana è dura a cambiare tuttavia se si procede nel cammino rialzando sia ogni caduta e avendo l'umiltà di ricominciare da capo arriva il momento in cui vengono concesse le vittorie e le grazie che preparano l'unione intima con Cristo fino all'ultima fino all'ultimo della vita cristiana quindi la sedia è un lungo cammino va fatta un po' ogni giorno affidandosi alla grazia la grazia può fare anche accelerazioni improvvise non lo vediamo come molti uomini fanno miracoli nel cammino di santità cari amici però è fondamentale la virtù della pazienza sostenuta dalla speranza cioè non stancarci lungo il cammino perché perché la santità cari amici è normalmente un lungo cammino in questa prospettiva il purgatorio interiore è il momento necessario del pellegrinaggio e per dispondere all'ingresso nella gloria cioè in poche parole il detto popolare che dice chi non fa il purgatorio su questa terra chi non fa il purgatorio in questa vita dovrà farlo nell'altra vita questa affermazione popolare è molto vera cioè alla conversione deve seguire il cammino di purificazione che sua volta porta all'unione con Dio se uno non fa questo cammino di purificazione in questa vita lo deve fare nell'altra questa purificazione consiste nella perfezione dell'amore nell'arrivare a Dio a dire mio Dio è mio tutto con tutto il cuore e bruciando così le radici profonde del male invece cari amici se l'anima impigrita e pur essendo rivestita dalla grazia santificante si è fermata nel cammino spirituale la sua situazione è quella di pericolo impressione infatti a riguardo le parole se vede la scrittura per esempio nella prima parte dell'Apocalisse la lettera alle sette chiese dove l'angelo delle chiese dice conosco le tue opere tu non sei né freddo né caldo magari tu fossi freddo o caldo ma poiché sei tiepido non sei freddo né caldo sto per vomitarti dalla mia bocca è Cristo che parla così l'anima che ristagna nella tiepidezza è come con la pianta che ha le radici malate lentamente ma inesonabilmente muore cioè la situazione del peccato veniale può essere l'anticamara ci indebolisce e ci può esporre il peccato grave quindi bisogna essere molto vigilanti mancando la linfa vitale le virtù appassiscono le forze vengono meno e la concupiscenza che si annida nella natura umana si rafforza e prende il sopravvento se la preghiera è il digiuno cioè la mortificazione sono le ali che sollevano verso l'alto e portano l'amore verso la perfezione la loro mancanza fa precipitare l'anima nella palude della mediocrità cioè senza preghiera senza mortificazione si cade nella mediocrità nella tiepidezza e questa è una situazione cari amici che prepara il peccato mortale qui su questa vita ma che comunque ci porta impreparati nel momento in cui Dio ci chiamerà questa è a prima vista la situazione della grande maggioranza dei cristiani cioè fermi nella palude della mediocrità stagnano in una situazione di compromesso fra il bene e il male fra Dio e il mondo non prendono una decisione netta per Dio per la conversione per la santità affermano di essere indeni di entrare direttamente in paradiso e si accontentano di un postecino in purgatorio non sanno quello che dicono e meno ancora quello che li aspetta quindi cari amici questa è quella situazione di vita che noi dobbiamo su cui dobbiamo vigilare che dobbiamo evitare in tutti i modi perché se non perseveriamo fervorosamente nel cammino di conversione e lungo tutto il corso della nostra vita e teniamo il piede in due staffe come si dice no? teniamo il piede in due staffe un po' cercando di per dire beh almeno un postecino in purgatorio stiamo attendo cari amici che questa situazione è di pericolo perché ovviamente Sadrano si accontenta di tenerci nella mediocrità vuole portarci dalla sua parte ma poi e soprattutto come si è avvertito anche la regia della pace comunque si è avverta la grande tradizione è assolutamente meglio più conveniente vogliamo usare questa parola fare la purificazione in questa vita che nell'altra vita perché per quanto i bugatori sono fiamme d'amore però sono dolorosissime come vedremo più avanti e vi ho sintetizzato cari amici questa prima parte del libro in questi due prime catechesi così potremo dalla prossima volta affrontare direttamente la parte seconda del nostro libro che riguarda l'esistenza del purgatorio e poi tutto quello che insegna la tradizione tutto quello che insegna la fede della chiesa tutto quello che è la bottiglia del magistero lungo il corso dei secoli fino al concilio Vaticano II poi vedremo il purgatorio nella peità popolare il purgatorio nelle rivelazioni private e così il patrimonio di insegnamenti che si offre alla chiesa riguardo al purgatorio